bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video finalmente siamo tornati questa volta siamo a chicago e questa volta siamo aiden pierce beh io sono sempre alle miracle però siamo aiden pierce mettiamola così guardiamoci il filmato cercherò di parlare il meno possibile in modo che voi possiate vedere bene il filmato il filmato introduttivo spettacolo ma guarda un cloud di dati pieno di segreti devo solo allungare la mano renda ed è il mio è nostro concentrati non dal sistema di sicurezza quanto abbiamo 100.000 in 30 secondi io benedica i ricchi i famosi siamo i prestigiatori di oggi facciamo sparire nel mondo e percibani cazzo ci hanno sgamato ma che vivi l'avventura vaffanculo praticamente siamo nella merda ma che cazzo sta succedendo scappa aiden ma che merda è successo ma che cazzo ci hanno trovato la famiglia brutti stronzi ma che merda però dai undici mesi dopo la vendetta ha inizio la vendetta porca troll watch dogs pesante 32.000 mesi di rinvii e finalmente abbiamo il gioco in mano l'hanno rinviato 700.000 volte sto cazzo di gioco e finalmente ci possiamo giocare ma come non lo sai ci hai parlato al telefono e infatti eccoti qua la registrazione li spaventerò non sentirai più parlare di lui beh che ne dici miss mi hai spaventato facevo il mio lavoro non lo sapevo dimmi con chi è nel telefono voglio il nome non me l'hanno dato ma come no lena 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 la pensavo che l'ammazzava la figa non sapevo nulla della bambina non sarebbe dovuto succedere voglio che ci rifletti dove nemmeno Vancell ascolta anche se sapessi il nome non te lo direi mai quella gente girano delle voci non hai idea di cosa possono farti devi andartene via battene a volte non puoi per favore ti ha dato l'ordine ma che stronzo ho parlato con lui al telefono e mi ha detto dove trovarti non sa nient'altro te lo giuro dammi un nome non lo so il nome ammazza mi ammazza mi cazzo ora ti spariamo in testa amico sbam ti sei cagato in mano eh ma che cazzo fai sbam ma chi pensi di fregare mamma mia mamma mia che idiota vabbè non ha parlato e quindi la prima pista con molte probabilità è quel cellulare per terra e infatti a che raggio però ragazzi non voglio spoilerarvi più di tanto la storia intanto inquadriamo Hayden inquadriamolo bene che grafica spettacolo ragazzi veramente eccolo qui Hayden ragazzi vi dicevo non voglio spoilerarvi più di tanto la storia perché non è non è giusto assolutamente non è giusto quindi eh nei commenti mettetemi se volete vedere altri video se volete vedere la storia o se volete vedere appunto del cazzeggio tra le Miracle e Hayden che vanno in giro per Chicago a fare i deficienti quindi cercherò di di giocare insieme ad Hayden per tutta Chicago farvi vedere come funziona il gioco magari farvi vedere un attimino cosa si può fare col cellulare e cercare di fregare un po' anche la polizia farmi inseguire vedere un attimino i modi per fermare anche i nemici però sinceramente non mi sembra giusto spoilerarvi la storia ecco vi ho fatto vedere diciamo la prima parte come una specie di introduzione e poi basta quindi ragazzi il video finisce qui eh vi ricordo come al solito di mettere un bel mi piace un bel commento soprattutto vi ripeto fatemi sapere cosa ne pensate eh e basta dite come al solito ai vostri amici di iscriversi assolutamente alle Miracle con lo sport e adesso con Watch Dogs è su YouTube quindi ditelo un po' ai vostri amici ragazzi il video finisce qui e ci vediamo alla prossima avventura di Aiden su PS4 di Aiden io di Aiden di Aiden il video